Il ritorno a scuola significa anche fare i conti con le spese per preparare al meglio bambini e ragazzi, libri, quaderni, matite, gomme e tanto altro ancora. Ultimamente tutto ciò coincide anche con un rincaro generale dei prezzi. Le difficoltà ci sono, ma si va avanti con fiducia. Certo sì, siamo pronti per quest'anno scolastico, un po' particolare come quello dell'anno scorso e dell'altro anno ancora. Noi siamo fiduciosi, speriamo bene. Quanto sta incidendo anche l'aumento di prezzi che sta coinvolgendo un po' tutti i settori? Tantissimo, tantissimo. Gli aumenti sono veramente, la merce praticamente si è triplicata. Cioè la carta, la plastica, a parte che non c'è, c'è proprio, c'è carenza di merce, non c'è, non ce n'è. Perciò questa cosa, diciamo che ci spaventa un po', però, ripeto, siamo fiduciosi e andiamo avanti. Carto librerie affini da un lato, genitori dall'altro. Libri di testo, prime spese da affrontare? Eh, sono costosi i libri. Per fortuna c'è comunque la disponibilità anche delle librerie, affrono anche l'usato, quindi la possibilità di scelta c'è. Però è difficile anche trovare, perché ci sono nuove edizioni, quindi non sempre i codici corrispondono. Però alla fine, diciamo, abbiamo la possibilità di scelta. Però i libri, insomma, sono costosi, soprattutto per chi ha più figli. Quindi magari chi ha due, tre figli, insomma, la spesa incide parecchio. Senza contare poi anche matite, libri, gomme, quaderni, ecco, quali accorgimenti in questi casi? Eh, certo, i quaderni nuovi vanno comprati, le penne, insomma, si può riutilizzare una cartella, un astuccio. Però tutto il materiale, se considerate quelli scientifici con disegno, squadre, compassi, insomma, le spese sono importanti.